Quella che dici tu non fa e quindi ci riprovo da Facebook. Aspettiamolo Eleonora? Eleonora, sarà arrivando a momenti. Non c'è una musica, qualcosa vede? Metti un video di Melechon. Non c'ho l'ho mandato a Melechon. Siamo in diretta? Eccoci. Adesso. L'impostazione. Aspettiamo. Eleonora, sarà arrivando a momenti. Eccoci. Quindi? Non c'è una musica, qualcosa vede? Metti un video di Melechon. Non c'è l'ho mandato a melechon. Siamo in diretta? Eccoci. Ecco, io per iniziare la diretta mando subito la copertina così sembra che siamo preparati. Ecco, letto. Siamo in corso. Siamo preparati. Aspettiamo Eleonora? Aspettiamo Eleonora? Aspettiamo Eleonora. Aspettiamo Eleonora. Allora, sento un po' di ritorni di audio. Intanto vi ringrazio, ringrazio i partecipanti al nostro incontro. di ritorni di audio. Tanto vi ringrazio, ringrazio i partecipanti. Abbiamo come Transform Italia stabilito un rapporto di collaborazione con la rivista left, è arrivata anche Eleonora, che nasce anche grazie a un frutto di un lavoro che stiamo facendo a livello europeo con un progetto che si chiama Media Alliance. l'idea è quella di mettere in rete una serie di giornali, di testate legate al partito della sinistra europea e all'area politica che rappresenta anche più ampia del partito stesso a livello europeo per poter consentire anche la diffusione di un pensiero di un pensiero critico a livello continentale con la definizione di un'opinione pubblica a livello europeo che faccia riferimento alla sinistra. Mi sembra che sia una cosa importante e che sta dando i frutti. Uno di questi frutti è appunto la possibilità che riviste come left possano pubblicare, avere rapporti con giornali, con giornalisti di altri paesi, in questo caso la Francia, e racconti un po' qual è la vicenda politica ed elettorale che ha visto Menachon a trionfare come figura carismatica della sinistra e capace anche di arrivare a proporre una coalizione, un fronte popolare largo anche su una base di un programma completamente radicale. Io non entro nei contenuti di questa posizione politica perché lo farà molto meglio di me Roberto Musacchio che oggi in qualità di collaboratore di left presenterà questo numero che è dedicato in gran parte appunto a Menachon e alla sua campagna elettorale. Con noi c'è Simona Suriano, deputata al Parlamento Europeo, gruppo manifesto a capo, gruppo portavoce del gruppo alla Camera, il onore a Forenza, già parlamentare europea, un'altra Europa con Sifras, e Maurizio Cervo, segretario del Partito della Rifondazione Comunista. Io mi fermo qui e do subito la parola a Roberto Musacchio per introdurre un po' i temi che potremmo affrontare con voi. Grazie. Ecco, grazie. Grazie a chi ci sta seguendo e chi ci seguirà poi grazie al materiale che lasceremo sui vari siti a disposizione insomma. Io comincio doverosamente e anche con piacere nel far vedere la copertina che l'EFT ha dedicato all'evento francese questa settimana. Credo una scelta molto coraggiosa in questo momento e anche una scelta di speranza. Cioè in un momento in cui naturalmente tutto è concentrato sul tema della guerra. La scelta di puntare anche dal punto di vista giornalistico su una prospettiva che potrebbe aiutare anche la conclusione della guerra e ritorno della pace è una cosa che ritengo molto meritoria di LEFT che vuole essere una rivista di sinistra anche nella capacità di non subire le agende imposte ma di cercare di determinarle le agende che credo che sia una caratteristica anche di un'informazione democratica militante. Quella di non deformare la realtà naturalmente sull'EFT le riflessioni per quanto riguardano la guerra sono molto chiare nella condanna dell'azione russa ma anche nella comprensione del contesto che si è determinato a cui io stesso ho scritto in particolare sulle difficoltà dell'Europa ad agire e sulle responsabilità dell'Europa di essere in questo momento un soggetto praticamente co-billigerante invece che un soggetto che aiuta la costruzione della pace. E per questo elezioni come quelle francesi sono particolarmente importanti e significative perché possono rappresentare un punto di svolta in uno dei paesi cardini dell'Europa. Purtroppo abbiamo visto, ce lo dirà sicuramente un po' isuliano, la piattezza politica italiana con l'esclusione del gruppo di manifesta, i compagni di sinistra italiana e poche altre voci in Parlamento per cui questa maggioranza di persone che in Italia sono contro la guerra e per la pace non hanno rappresentarsi. In Germania c'è una situazione di stallo preoccupante perché è un paese fortemente in difficoltà economica e in un solo mese sono diminuiti del 10% coloro che sono a favore della guerra. Cosa positiva, ma insomma ancora non c'è una proposta politica adeguata. Mentre in Francia questa proposta politica si potrebbe manifestare nelle elezioni che sono alle porte, si voterà all'inizio di giugno e poi a metà giugno per il ballottaggio. Una sorta di terzo turno è stato chiamato perché per chi non lo sa insomma in Francia si votava prima le presidenziali, erano un settennato per cui c'era uno spaiamento tra presidenziali e legislative. Adesso con un accorpamento sostanzialmente di presidenziali e legislative, risolto le legislative funzionano di conferma del voto presidenziale. Questa volta potrebbe non essere così ed è auspicabile che non sia così. La volta precedente Macron fu un'invenzione liberale trasversale che prese dai socialisti alle destre, liberali, su cui poi confluirono un po' tutti per contrastare le destre estreme, ma questi cinque anni di presidenza macroniana sono stati fortemente di testa. sono stati una sorta di renzismo in salsa francese per tutte le tematiche su cui si è manifestata una politica socialmente di classe che è stato chiamato il presidente dei ricchi. È significativo che a distanza di cinque anni il consenso per Macron sia radicalmente sceso, aveva praticamente 30 punti di vantaggio rispetto alle penne che andò al ballottaggio anche l'altra volta, questi punti sono ridotti alla metà, da 32 a 16, e il suo consenso elettorale è sceso di circa due milioni oltre di voti. Al contrario è salito il consenso elettorale per Menachon, che riprovava nuovamente ad andare al ballottaggio, non ci è riuscito per poche centinaia di migliaia di voti, 400 mila voti, ma è risultato significativamente il più votato tra i giovani. È un dato che viene riproposto da Simona Maggiorelli, che saluto, non poteva essere con noi perché oggi il giornale chiude, è la direttora di Liberazione che fa l'editoriale titolato Qualcosa di Sinistra, che sottolinea particolarmente questa capacità di un leader che ha una storia alle spalle, viene dall'esperienza socialista, poi ha attraversato una svolta a sinistra, mano a mano che il Partito Socialista andava verso a destra, di riuscire a rapportarsi con grande forza, in particolare alle giovani generazioni. Poi ha risultato primo anche in molte città e anche una parte dell'elettorato che tradizionalmente andava verso i socialisti, quello diciamo di borghesia intellettuale si è spostato insieme ai socialisti stessi che già dal primo turno una parte lo hanno votato verso Menasciò. Ed è poi quello che è riuscito a contrastare nel voto popolare la destra che ha cercato di sfruttare il malcontento come sempre in chiave nazionalistica. Conosciamo le destre estreme come quella di Le Pen che tra l'altro il Parlamento europeo siete insieme al gruppo con Salvini, cosa che dovrebbe colpire in Italia, visto che in Italia c'è un governo con Salvini, come ben sappiamo tutti. Grazie alla collaborazione di cui parlava Roberto Marea, poi abbiamo una bellissima intervista a Melanchon che io segnalo, che viene dall'umanità e che poi è stata anche ripresa adesso in Polonia. Interessante perché è un'intervista di come si faceva politica un tempo anche in Italia, c'è un'intervista che riflette sulla condizione del paese, dei centri popolari, dell'Europa e anche sulle terminologie. Dice Simona Maggiorelli giustamente una proposta a sinistra, lui discute anche sul termine sinistra dicendo io sono un uomo di sinistra, faccio una politica di sinistra, credo che in questo momento dobbiamo rapportarci al popolo in quanto tale su una posizione naturale. radicalmente alternativa al neoliberismo e che quindi nei contenuti ricostruisce un'identità di questa sinistra. E questo è un punto importante perché il punto di partenza suo è quello della ricostruzione di un blocco sociale e quindi di una forza non effimera perché la sfida è per il governo. E per un governo che non sia la gestione come hanno abbiamo imparato o fanno solitamente i socialisti europei quando vanno al governo, invece al contrario che sia un'alternativa alle politiche liberiste. E troviamo in cui anche delle tematiche che poi credo ti parleranno sia Leonora che Maurizio, Leonora che come me è stata parlamentare europeo dopo di me, ma che propongo anche a Simona, importante come quella della disobbedienza alle regole dei trattati liberisti europei che peraltro sono sospesi perché il patto di stabilità è sospeso di fronte alle crisi che viviamo, come chiave di volta anche per cambiarli, per trasformarli. Cioè quello che è contro il nostro programma noi faremo in modo di disobbedire. L'esempio più concreto e immediato è la questione delle pensioni, laddove l'Europa spinge la Commissione Europea per andare in pensione a 70 anni, in Francia si va a 62, Macron ha tentato di portare a 65, c'è stata una mobilitazione sociale straordinaria, enorme, immensa, poi sospesa dalla pandemia e adesso il programma che è stato concordato con tutte le forze di sinistra dai socialisti ai verdi ai comunisti parla di pensione a 60 anni con il metodo retributivo che già ancora in Francia esiste. Dopo l'intervista di Mélenchon c'è un articolo del nostro amico Gaël Desantis da Parigi che è un redattore importante dell'umanità e che fa un po' la storia diciamo di questa ricostruzione unitaria a sinistra che era mancata per un periodo e che invece ritrova un percorso storico perché i fronti popolari sono dal 36 un pezzo della storia della Francia, questa volta ribattezzato Nuova Unione Popolare Ecologica e Sociale, la Nupes e dunque anche qui molto francamente ricostruisce i rapporti a sinistra delle loro complicazioni che però hanno prodotto un risultato veramente straordinario. Avremmo la possibilità di andare alle urne anche in un contesto diverso dal solito perché forse il bipolarismo classico che ha consegnato poi sostanzialmente ai socialisti in chiave liberale l'alternatività alle destre potrebbe essere superato da una tripartizione in cui la forza preponderante potrebbe essere quella radicale di sinistra. Questa cosa è avvalorata anche da un altro articolo che arriva da Parigi di Lorenzo Battisti che ripercorre i punti sociali di destra del programma della politica di Macron contro i quali c'è in campo non da adesso non solo in termini programmatici ma in termini di iniziativa di tutti questi anni la proposta di quella che in questo momento è diventata la Nupes. Penso al salario minimo eh aumentato a millequattrocento euro ho detto già delle pensioni penso alla sanità pubblica alla rinazionalizzazione di settori chiave come quelli dell'energia alla scelta nettamente ambientalista ecologista che viene fatta alla scelta per la pace e per un'Europa autonoma anche dalla logica della Nato e delle super e delle super potenze. Ecco io mi fermo qua dico solo una cosa la Francia ha una vitalità sociale che noi abbiamo disperso purtroppo il quadro politico italiano a partire dal partito democratico ma poi è dall'involuzione avuta dei 5 stelle ha pesato anche sul quadro sociale del nostro paese ha portato le persone a pensare che non ci fossero alternative poi a cercarle in una rottura eh diciamo eh eh come quella proposta dei 5 stelle che che poi non ha avuto una capacità contenutistica reale eh nel momento in cui ha assunto responsabilità di governo e questo è il rischio eh che bisogna eh affrontare e superare cioè la passivizzazione. Io penso che eh noi dobbiamo riuscire a ricostruire una rappresentatività politica che poggia precisamente su una ripresa eh di protagonismo sociale di autonomia di pensiero e da questo punto di vista l'esperienza francese è veramente interessante. Dicevamo prima anche la cosa dei mass media eh l'Italia è una cosa drammatica dal punto di vista dei mass media ma anche le reti però in Francia hanno una diffusione maggiore cioè io ho visto per esempio eh la capacità di utilizzare la rete da parte di Melanchon e degli altri perché non è più solo in copertina è anche rappresentata eh ma nono bri che è la capogruppo eh eh di left cioè della sinistra al Parlamento europeo a trent'anni e hanno eh centinaia di migliaia di eh di followers nei vari canali media e questa è una eh sfida che un po' da un quella sinistra fa laddove riesce a ricostruire una propria eh rappresentatività anche tra le giovani generazioni. Io mi fermo qui ho presentato un po' il numero che era la cosa che eh volevamo fare ringrazio da parte di left della direzione di left della redazione voi tutti che avete voluto presentarlo Transform e partecipare alla presentazione eh Simona Sugliano, Maurizio Cerber, Lona Forenza e mi taccio. Grazie Roberto eh solo un appunto eh Simona Maggiorelli sta chiudendo il giornale nel senso che sta chiudendo il numero che esce in etico la settimana prossima e non chiude il giornale che è un termine tecnico che è no in gergo si vede che non fai mai una redazione nel giornale. No 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 lo dico per chi non è esperto come te di giornali magari può pensare male. Simona Suriano allora la prima reazione. Sì allora intanto grazie per avermi dato questa occasione. Condivido quanto detto da Roberto eh in questo momento in Italia si affronta un una grave crisi di eh rappresentatività. C'è lo scollamento tra eh il Parlamento, quello che accade dentro le istituzioni e i cittadini. Noi eh parlamentari lo viviamo quotidianamente. Siamo una piccolissima minoranza eh quella che si oppone alle scelte scellerate di questo governo non ultima appunto quella eh di eh continuare questo conflitto quando tutti i sondaggi, tutte le persone con cui io ho avuto modo di parlare o comunque la maggior parte degli italiani eh si trova totalmente contrario ma anche perché eh ne stiamo vivendo le conseguenze sulla nostra pelle eh non è non voler solidarizzare con il popolo ucraino che sicuramente vive sotto le bombe in questo momento e non è paragonabile rispetto a quello che viviamo noi ma stiamo cominciando a vivere dei disagi di natura economica chiudono le fabbriche chiudono le aziende quindi stiamo eh assistendo a una serie di licenziamenti eh gente che non riesce più quindi a eh a sostenere la famiglia arrivare a fine mese per non parlare del rincaro energie per rincaro del delle bollette della eh della benzina cioè tutte conseguenze economiche che stiamo vivendo e che se non è una bomba è comunque eh un forte disagio che provocherà facche di povertà ancora più ulteriori di quelle che stiamo vivendo e quindi quando oggi tra l'altro mi si critica il reddito di cittadinanza che forse è una delle poche misure positive che ha portato il Movimento 5 Stelle nel governo lo trovo assurdo lo trovo ridicolo eh si parla di circa sette miliardi eh di spesa per il reddito di cittadinanza eh quando per aumentare la spesa per il riarmo eh dodici tredici miliardi si sono trovati in un giorno e lì nessuno contesta l'assurdità eh di armare ulteriormente l'Italia quando già spendiamo venticinque miliardi circa l'anno di spesa militare aggiungerne altri tredici in un momento di così grave difficoltà lo trovo eh veramente eh irrispettoso nei confronti dei cittadini e questa assenza di rappresentatività mi avvise quello che poi porta alla sfiducia parlavamo poco fa di eh gravi grandi percentuali di astensionismo il cittadino non si sente più rappresentato quando anche il Movimento 5 Stelle che doveva essere la speranza di eh rivoluzione eh nel giro di pochi mesi si è ammorbidito appiattito fino a scomparire completamente oggi eh dentro il Parlamento non non intervengono quasi mai non hanno eh un'opinione un'idea un eh un punto di vista da portare dentro il dibattito parlamentare semplicemente si votano fiducia nessuno si oppone il Movimento 5 Stelle che doveva essere la forza rivoluzionaria eh aumenta il disagio aumenta eh la la sfiducia nei confronti dei cittadini questo però non ci deve far perdere la speranza anzi Melashon secondo me è eh l'esempio di eh di tenacia di caparbietà che è eh chi insiste eh può eh portare nuovamente fiducia il dibattito politico eh tra tra i cittadini tra le persone a mio avviso si deve ricominciare da lì da dalle persone dalle associazioni dai comitati io sto eh girando l'Italia un pochettino per eh far conoscere appunto questo progetto che abbiamo eh avviato alla Camera insieme a Rifondazione Comunista e Potere al Popolo eh e devo dire che eh l'interesse e la voglia di eh avviare qualcosa c'è la speranza c'è c'è molta sfiducia come dicevo appunto poco fa eh e quindi dobbiamo cominciare a eh parlare alle persone singolarmente a far capire che eh la politica la facciamo tutti la facciamo quotidianamente e che eh oggi siamo in quattro ma se fossimo in quaranta in cinquanta in cento che non che non si appiattiscono e non si vendono come hanno fatto altri la differenza si può fare noi nel nostro piccolo eh ci stiamo provando proviamo a portare dei temi portiamo eh delle istanze eh che eh altrimenti non verrebbero eh minimamente considerate infatti penso anche a tutta quella serie di temi che la cosiddetta sinistra che c'è oggi in Parlamento ha completamente dimenticato eh pensiamo alle pensioni ai servizi pubblici c'è in atto un decreto eh privatizzazione un decreto concorrenza eh che va a privatizzare ulteriormente lì eh se avessimo una sinistra in Parlamento avrebbero fatto le barricate avrebbero fatto eh un'opposizione ferma invece eh l'attuale eh finita sinistra chiamiamola finita sinistra il partito democratico eh anche lì totalmente appiattito alla alla volontà del governo e quindi eh per me non è identificabile come la sinistra quindi tutti quei temi che eh sono poi alla base della delle esigenze dei cittadini e delle esigenze sociali devono ritornare nel eh dibattito pubblico nel dibattito politico e questo lo possiamo fare appunto riconvincendo convincendo la gente a partecipare in prima persona a spendersi in prima persona e a ridare fiducia alla politica la politica con la P maiuscola e non quella eh fatta eh da gente che si vende eh per un piatto di lenticchie. Eh cos'altro dire ehm per quanto riguarda la disobbedienza che diceva Roberto sui trattati io ricordo quando ho fatto il master in relazioni internazionali si parlava appunto dei controlimiti fino perché la nostra Costituzione prevede la eh possibilità che eh l'Italia faccia un passo indietro rispetto ai eh trattati internazionali ma esistono appunto i controlimiti che sono che che è la nostra Costituzione. Quindi quando lì eh la nostra Costituzione che è completamente eh disattesa quotidianamente quando anche il eh la pensione o la pensione minima di 500 euro che non permette di vivere dignitosamente o quando assistiamo a degli sprappi perché la gente non riesce più a pagare neanche eh un canone di locazione o eh una una bollezza. Lì il diritto all'abitazione, il diritto alla vita dignitoso o un lavoro dignitoso sono principi costituzionali, quindi i trattati internazionali vanno rispettati sì ma dobbiamo vedere fino a che punto e lì c'è tutto un dibattito giurisprudenziale, giuridico eh se eh prevale la Costituzione o prevalgono i diritti o il i trattati internazionali. Secondo me questi sono temi che eh andrebbero affrontati sia a livello europeo che a livello italiano, governativo. Eh va bene il trattato internazionale ma entro certi limiti. Non possiamo eh accettare i diktat europei quando poi comunque le sacche di povertà nel nostro paese aumentano per rispettare appunto faceva l'esempio della riforma delle pensioni che ritorna anche lì eh per attuare il PNRR dovremmo fare la riforma delle pensioni e quindi eh anche lì eh vediamo, valutiamo. Io sono fiduciosa, sono fiduciosa che eh se ci impegniamo eh riusciamo a convincere la gente a eh ritornare in piazza, a ritornare eh dentro le istituzioni. Eh ci vuole tempo sicuramente probabilmente nel 2023 è troppo poco il tempo per convincere la gente a ritornare ad appassionarsi di politica ma eh non bisogna demordere come appunto eh insegna l'esperienza di Melanchon eh insistendo sui progetti sulla buona politica sulla eh sulla genuità di quello che si fa eh e su un programma credibile ovviamente eh eh si può eh riportare fiducia tra i cittadini. Io mi fermo qui. Basta. Grazie Simona. E no tu dicevi giustamente che ci sono cose che la Costituzione eh garantisce. Tra l'altro è uno degli esempi è quello di Napoli cioè De Magistris che in funzione della Costituzione si è diciamo ha disobbedito anche agli impegni di bilancio eh che gli erano imposti. Una il tema delle disobbedienza è stato anche uno eh dei nodi con cui abbiamo fatto le campagne elettorali a livello europeo con l'altra Europa e quindi chiedo anche all'onora di ragionare su questo punto su come è possibile anche qui da noi rimettere sul tavolo una opzione che tra l'altro eh diciamo liberali e liberisti ultraliberali e ultraliberisti applicano continuamente non rispettando regole e trattati quando conviene a loro eh non c'è nella transizione ecologica nel nel diritto delle donne ci sono molte cose che trattati prevedono e che vengono disattese eh continuamente eh da Germania, da Francia o da altri paesi. Quindi i rapporti di forza mi sembra che siano l'unica cosa che consentono eh questa disobbedienza. È l'onora. Ci sei? Sì sì ci sono e grazie per l'invito a discutere di questo numero di left che anche io insomma eh lo avrete appreso se non avete detto il numero dalle parole di Roberto ma devo dire che anche io che sono abbonata al left trovo eh diciamo questo numero particolarmente utile perché eh è diciamo un lavoro di rappresentazione e di inchiesta che ci permette di conoscere da dentro eh quello che sta avvenendo in un laboratorio significativo per la politica europea non soltanto eh per la politica a sinistra per la politica eh come dire dal dal nostro lato della della barricata ma oggettivamente eh come dire eh un laboratorio significativo a tutto tondo per tutta quanta Europa. E per arrivare alle cose che mi chiedeva a Roberto eh Morea eh io però vorrei partire se Roberto Morea me lo consente dalle cose che diceva eh Roberto eh grande ex collega eh prima perché eh penso che siano dei punti ehm che che appunto Roberto Mosacchi poneva la nostra discussione eh per me centrali e e il programma di Mélenchon eh Roberto citava tre punti e qui li voglio riprendere la questione delle pensioni a sessant'anni la questione del salario minimo che è una questione che sta diventando eh anche da noi eh oggetto non solo di proposte di legge ma anche di campagne sociali e l'altra questione eh da noi meno discussa perché abbiamo un modello diverso di reddito ma eh la questione del eh come dire ehm del reddito di solidarietà attiva che si collega a una sorta di lavoro obbligatorio con un modello diverso diversissimo sicuramente eh dal reddito di base per come lo abbiamo immaginato noi e proposto nelle campagne anche europee negli anni ma certamente diverso anche dal reddito di cittadinanza che si si sta sperimentando qui in Italia eh perché parto da queste tre campagne eh la questione delle pensioni a sessant'anni eh la questione del eh salario minimo e la questione eh del reddito perché mi sembra eh che diciamo siano tre parole chiave eh lui prende un po' diciamo le distanze eh o meglio dice che è finita la stagione della sinistra delle trentacinque ore in Francia però sappiamo che quella bandiera delle trentacinque ore eh portata avanti diciamo da parte della della sinistra francese eh Jean Spen allora è diventata poi una battaglia simbolo eh anche per altre forze della sinistra europea penso a noi di rifondazione eh comunista proprio per la sua leggibilità da un lato e la sua capacità di entrare materialmente dentro diciamo eh una questione che era quella della riduzione di olario di lavoro a parità di salario eh oggi mi sembra che queste tre questioni diciamo quella del salario minimo eh tra l'altro diciamo in Francia come ben ricostruisce il numero di left ci sono tantissimi eh contratti collettivi nazionali che sono al di sotto diciamo di quella proposta di salario minimo quindi con una eh diciamo condizione come dire eh di working poor diffusissima ehm diciamo dicevo la questione delle pensioni in Italia diciamo sappiamo essere eh come dire oggetto eh di fatto di un ripristino della riforma Fornero sostanzialmente di un ripristino della riforma Fornero proprio con Simona ha partecipato insieme a un seminario organizzato da da rifondazione comunista eh e dal gruppo di di manifesta proprio sulla questione delle delle pensioni che è una sua forte attualità nel contesto del contesto italiano attualità in negativo appunto per il ripristino di fatto della della Fornero eh la seconda eh è diciamo di fatto la non considerazione da parte del governo neanche della posizione di garanzia che una parte del sindacato ha proposto diciamo sul tavolo di contrattazione sulle pensioni seconda questione è quella del salario minimo su cui si stanno eh muovendo diverse proposte anche eh parlamentari ma anche le voglio nominare da parte delle campagne eh diciamo sociali eh da quella che diciamo sta avanzando o paese reale eh a quella che diciamo verrà condivisa da una serie di realtà eh di eh movimento e eh di sindacalismo conflittuale eh il prossimo ventisette maggio se non erro eh qui a Roma eh alla questione appunto diciamo di sganciare eh il reddito quindi l'idea che diciamo nessuno possa eh vivere al di sotto di una soglia di povertà e la soglia di povertà da diciamo l'obbligo di prestazione lavorativa. Eh io ho connetto queste tre questioni eh che secondo me sono in grado assolutamente in grado oggi di dare eh come dire efficacia eh alla nominazione di una questione sociale europea eh le voglio collegare con la questione che eh meno sciampone e che ha giustamente ripreso eh Roberto nella sua eh presentazione cioè alla base eh di questa esperienza di eh unione popolare a venire in comune eh il blocco sociale la questione della ricostruzione del blocco sociale eh e eh l'esigenza diciamo eh di dare voce ai bisogni dei cieti popolari come eh di fatto costruzione eh di una eh posizione politica nei fatti anticapitalista, nei fatti antineoliberista. Questa è diciamo secondo me un po' la scommessa eh di di Mélenchon eh che utilizza e io su questo diciamo anche vorrei porre eh la vostra attenzione questa espressione che a me è piaciuta molto eh la teoria materialista della rivoluzione popolare per parlare diciamo della costruzione della sua proposta. Perché mi interessa questa teoria materialista della rivoluzione popolare? Eh Mélenchon racconta eh in questa intervista vi invito a leggere però anche e diciamo le schede che vengono prodotte sulla questione del salario minimo perché ci danno una mappa della questione salariale in Europa secondo me è utilissima ehm come questa forza diciamo che eh ci auguriamo si affermi eh in maniera eh come dire tale da portare eh la scommessa al al governo eh si sia costruita negli anni non un solo giorno quindi ci sia stata un'accumulazione progressiva di consenso su una scommessa politica che purtroppo neanche questa volta ha portato Mélenchon a scalzare la Le Pen dal diciamo dal ballottaggio con Macron ma che sicuramente diciamo ci parla della scommessa apertissima per quanto riguarda le prossime elezioni in Francia. Eh dico questo perché se Mélenchon eh ci ripropone una chiave di costruzione eh della sua scommessa politica eh che come sappiamo sta dentro un dibattito della sinistra europea non solo europea e dice sostanzialmente la frattura è popolo elite eh io sono un uomo di sinistra eh presentarsi con una formazione di sinistra in questo momento non consente diciamo non è proficuo per dare voce a quelli che sono i bisogni popolari. Eh io penso che noi dovremmo stare più che dentro un dibattito eh sinistra o non sinistra eh populismo di sinistra o meno dentro diciamo la prospettiva proprio di una eh approccio materialistico e quindi calato nella concretezza della della situazione italiana eh per la costruzione di una proposta politica che non sia soltanto una proposta elettorale. Eh io diciamo eh vedo questo penso che diciamo è uno spunto che offro eh diciamo alla al confronto fra fra di noi. Eh io credo che in Italia eh lo si diceva prima lo diceva anche Simona. Eh noi abbiamo eh una fetta importante di eh opinione pubblica questo sul lato delle opinioni che ha espresso la propria contrarietà all'invio di armi come diciamo eh modalità di intervento dell'Italia eh nella diciamo guerra tra Russia eh e Ucraina. eh lo fa diciamo per tante ragioni sicuramente anche eh di tipo eh come dire per paura ma lo fa anche io immagino eh prevalentemente perché sente sente che l'invio di armi è qualcosa di profondamente in contrasto con lo spirito della nostra Costituzione. Eh in tanti e in tante stanno ponendo la questione di eh questo quaranta per cento che è senza rappresentanza politica. E questo è un nodo. Eh è un nodo che diciamo è stato aperto anche eh da eh posizioni eh esplicitamente a mio viso guerra fondaie non trovo parole più adatte per dirlo come quelle assunte dal Partito Democratico. Eh Roberto concorderà con me eh quando dico che diciamo eh la dichiarazione di Enrico Letta eh favorevole all'invio di armi eh fatta citando l'articolo undici della Costituzione ma anche dicendo qui nasce l'Europa geopolitica e significa che l'Europa geopolitica sta nascendo dentro una ristrutturazione militare del capitalismo europeo che chiude eh quella diciamo parentesi eh di eh spiraglio redistributivo che si era aperta con il next generation eh EU e che rischia diciamo di eh come dire seppellire qualsiasi eh prospettiva di autonomia politica eh dell'Europa perché appunto stiamo rinunciando a svolgere un ruolo di mediazione che lasciamo a quel campione di Erdogan, campione di diritti umani di Erdogan per invece eh intraprendere la strada della cobellina di Geromas. Eh allora in abbiamo diciamo da un lato una frattura sul versante dell dell'opinione diciamo la Costituzione, l'idea di Europa, la difesa della pace, la continuità con uno dei più forti movimenti pacifisti in Europa. Dall'altro lato abbiamo una frattura sociale e eh perché? Perché è innegabile che diciamo in Italia più che in altri paesi europei noi abbiamo il pilota automatico che si è fatto uomo alla guida del governo italiano con una maggioranza diciamo eh di fatto eh che eh come dire include eh tutto l'arco parlamentare se non con le eccezioni di sinistra italiana e manifesta a sinistra e della finta opposizione della Melonia a destra è evidente dal mio punto di vista che si è creata una frattura fra l'alto e il basso e e questa frattura non può che essere purtroppo incrementata diciamo dalle scelte di politica economica che sta facendo questo governo a partire dalla questione delle spese militari fino all'accantonamento diciamo della questione della transizione ecologica per riscoprire il carbone, il raddoppio dei gasdotti e eh il diciamo eh l'importazione di gas eh diciamo estratto con con il fracking dagli dagli Stati Uniti quindi io credo che la nostra proposta politica oggi materialisticamente come direbbe Melanchon debba essere in grado di interpretare questa frattura una frattura che è sociale e di opinione insieme e da questo punto di vista eh il tempo io credo che sia questo tempo credo che sia questo perché e questo ce lo dobbiamo dire ci insegna Melanchon che le proposte non si costruiscono da un giorno all'altro arrivare al ridosso delle elezioni per costruire una proposta politica eh evidentemente diciamo eh farebbe perdere di credibilità a qualsivoglia proposta politica mi si lanciava chiudo con un flash che prova a rispondere alla interloquire con la sollecitazione originaria di Roberto eh la questione della disobbedienza anch'io trovo che sia eh una questione centrale eh da porre oggi eh noi l'abbiamo posta in momenti in cui purtroppo nella storia europea come tu ricordavi i rapporti di forza erano totalmente sbilanciati a nostro favore la crisi greca eh che tu nominavi prima tra l'altro voglio qui ricordare che negli anni in cui l'Europa strangolava la Grecia invece trovava i soldi per finanziare l'Ucraina e diciamo eh aprire la sua sfida geopolitica eh per la derossificazione diciamo delle relazioni politiche dell'Ucraina ma questo è un altro capitolo eh oggi il tema della disobbedienza non può che essere legato alla questione non solo della sospensione eh del patto di stabilità ma della diciamo chiusura con la stagione del del eh patto di stabilità e riscruttura dei trattati il Parlamento europeo ha aperto un barco in questa direzione io credo che diciamo noi dobbiamo lavorare per praticare quel barco dobbiamo lavorare per praticare quel barco grazie grazie veramente l'onora eh Maurizio gli consegno semplicemente la parola perché insomma i temi sono talmente tanti che non c'è bisogno di aggiungere o di sottolineare qualcosa infatti ma innanzitutto grazie per a left per questo numero perché è in corso un'operazione di mistificazione in questo paese un po' di oscuramento e faccio presente una cosa che per noi è scontata ma non lo è per milioni di persone non dobbiamo mai dimenticarci che ciò che è ovvio per noi non lo è non è ovvio per chi non fa parte delle nostre ristrette oramai cerchie della sista radicale in Francia il secondo paese più importante dell'Unione europea come peso politico tra l'altro potenza nucleare eh c'è la possibilità concreta secondo i sondaggi che una coalizione che si chiama nuova unione popolare eh ecologica e sociale vinca le elezioni con un programma che è sostanzialmente quello che ha presentato le ultime letali politiche di cinque anni fa di quattro anni fa potere al popolo in alcuni punti anche più potere al popolo in cui c'eravamo anche noi eh insomma come torneremo a essere insieme la prossima volta il programma che con cui siamo presentati negli ultimi anni eppure questa cosa eh non è presente perché il primo articolo di fede che viene imposto alle nostre opinioni pubbliche è a quello che era il popolo di sinistra che purtroppo è il popolo su cui si è concentrato un bombardamento ideologico di lavallo del cervello che lo ha trasformato io lo dico con sofferenza in un mostro tant'è vero che scopriamo nei sondaggi che l'elettorato del PD è quello più a favore dell'invio delle armi in Ucraina e quello più a favore delle privatizzazioni se non ci fossero i diritti civili sostanzialmente sarebbe a destra di quello della Lega e questo dà l'idea di come stiamo messi in questo paese ora il primo articolo di fede è che non ci può essere altra sinistra se non quella schifezza che si chiama centrosinistra PD e che Melechon e i nostri compagni e compagni francesi chiamano social liberisti ora la prima cosa da chiarire che per noi è scontata ma guardate che non è scontata neanche per i lettori del manifesto è che Melechon ha costruito quindici anni di campagna politica nella lotta contro non per emendare non per aggiustare ma contro i social liberisti persino lo scontro con i nostri compagni del partito comunista francese è stato in passato è stato motivato dal fatto che Melechon era contrario anche alla convergenza con i socialisti nelle elezioni nei comuni cioè Melechon ha lavorato alla costruzione di uno spazio politico nuovo che non avesse a che fare col centrosinistra anzi fosse contro la peste e il colera oggi Enrico Letta da buon democristiano non ha avuto il coraggio di dire noi siamo rappresentati in Francia da Macron perché se noi guardiamo i programmi il PD e il macronismo italiano con i satelliti più estremisti cioè Renzi e Calenda ma quella 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 ammasso quella cosa è e ha detto Macron Melechon noi pensiamo una cosa italiana no la realtà è che in Francia la cosa è stata costruita contro il loro PD tant'è vero che il tema dell'alleanza con i socialisti e si è posto solo dopo che Melechon li ha ridotti all'uno virgola sette per cento alle elezioni presidenziali lo dico perché faccio un'apertura a chi mi dice che sono settario sarò a favore delle alleanze col PD quando i rapporti di forza tra la sinistra e il PD saranno quelli francesi il secondo punto questa cosa è fondamentale perché buona parte degli intellettuali dei sindacalisti dell'associazionismo dei movimenti in Italia anche della sinistra politica sono anni che invece ci dicono che la sinistra si ricostruisce in Italia cercando di condizionare il partito democratico quella schifezza che c'era prima che poi diventa del partito democratico ecco liberi di pensarlo a mio parere il bilancio è devastantemente negativo perché dico solo due cose il risultato del condizionamento della sinistra civica ecologista e dei verdi a Roma è che si fa come primo atto grande importante della nuova giunta dei Gualtieri il più grande inceneritore d'Italia il condizionamento pacifista è tale che l'Italia è il paese più filonato e più e più filousa insieme alla Polonia nell'unione europea non faccio altri esempi perché altrimenti qualcuno va a saltare una sede del PD e non vorrei poi essere accusato di apologia di reato io credo nella rivoluzione nelle urne come me le scionne quindi passo ad altro ora l'altro elemento è quindi che quando si parla di campo largo evitiamo confusioni io lo dico perché l'unico mio elemento di dissenso con l'editoriale della carissima amica Simona è il campo largo di Letta è nemico della possibilità di costruire in Italia il uno spazio di unione popolare come quello che c'è in Francia questo deve essere chiaro perché è questo il principale problema italiano e due anni fa prima dell'esplosione della della pandemia noi di rifondazione abbiamo distribuito forse un milione di volantini sicuramente sei settecentomila con per raccontare sulle strade visto che non ci invitano in televisione cosa stava accadendo in Francia su quei volantini c'era scritto facciamo come in Francia non ci riferivamo a me le scionne alle elezioni ci riferivamo allo sciopero a oltranza con cui è stata fermata la riforma delle pensioni ora oltre a tutti i meriti della France Insoumise di Mélenchon e degli altri compagni in Francia dello stesso PCF che con il fronte e gauche aveva preparato tutto quello che è accaduto però in Francia c'è un altro fatto cioè che i sindacati hanno fatto i sindacati contro le riforme neoliberiste c'è stata la lotta aperta sociale che in Italia non c'è dal tempo dei governi berlusconi questo è un problema da porre eh ai compagni alle compagnie della CGL che vanno in congresso perché eh questo fatto ha fatto sì che si creasse in Italia e in Francia quel blocco sociale popolare di sinistra antiliberista io direi anche anticapitalista lo dice anche nell'intervista a me le scionne che in Italia non c'è perché alla fine se l'agenda è tutta determinata dagli altri eh non c'è la polarizzazione sui temi sociali ed ecologici quindi io credo che questo eh lo dico perché vengo dall'assemblea della GKN proposta della GKN di convergenza domenica a Firenze eh io credo che in tutti i nostri discorsi dobbiamo tenere sempre insieme sociale e politico e quindi ragionare sul fatto che costruire un'unione popolare anche in Italia passa anche per costruire una convergenza delle lotte e fare uscire questo paese dalla passività in cui siamo e lo dico in questa occasione come l'ho detto anche a Campi Bisenzio io trovo scandaloso che non si ragioni tutti insieme eh lo dico anche alle grandi organizzazioni di massa come la CGL per una grande manifestazione di tutti quelli a Roma che sono contro l'invio delle armi e contro il raddoppio delle spese militari decisi a questo governo però non è tutto nelle nostre mani cerchiamo di fare quello che è possibile e l'altro elemento che mi sembra fondamentale il discorso eh di Mélechon è quello del eh dell'aver costruito un campo cioè in Italia noi sempre ragioniamo come se le percentuali dei sondaggi che ricordo un grande intellettuale uno dei più grandi sociologi non francesi ma internazionali per Bordier che ebbe un ruolo fondamentale nella nascita del movimento antiliberista e antiglobalista eh che piaceva molto a Rossana Rossanda che ci consigliava sempre la rittura negli anni novanta e Pier Bordier diceva che i sondaggi in realtà se vivano a creare eh gli orientamenti della popolazione ora se noi oggi guardiamo i sondaggi in Italia cosa osserviamo? Che eh ci sono milioni di persone che sono contro l'invio delle armi milioni di persone che sono contro aumento e spese militari ma milioni di persone che sono contro la privatizzazione dell'acqua e su tutti i temi principali probabilmente ci sono milioni di persone che non la pensano come i partiti per cui votano o non votano però le forze come noi che rappresentano eh quella impostazione programmatica sono quasi inesistenti. Ora Mélechon col suo progetto che non è nato come dicevano Eleonora e Simona dalla sera alla mattina ma è frutto di un lavoro eh di lunga durata eh che però bisogna sempre cominciare e mai rinunciare a cominciarlo perché altrimenti eh nulla nasce dalla dall'inazione eh il fatto che sia stata in campo in Francia una proposta popolare radicale antiliberista anticapitalista per anni percepibile a livello di massa ha costruito il fatto che milioni di persone si sono riconosciute progressivamente in quella alternativa. Io dico che è quello che noi dobbiamo continuare a insistere eh a cercare di fare in Italia imparando dagli errori. C'è un altro punto fondamentale nell'esperienza di Mélechon che utilizza molto il populismo di sinistra, le teorie di Laclau eh della moglie ma non c'è l'antipolitica. Persino nella costruzione del dell'Union Populare Mélechon dice riuniamo i partiti, mettiamoci d'accordo, eh non c'è quel io dico virus eh che ha portato in Italia al successo del Movimento 5 Stelle anche all'autoliquidazione della sinistra. C'è stata invece quello di cui noi abbiamo bisogno la costruzione di un discorso popolare radicale che parlasse alle condizioni di vita di milioni di persone eh penso solo alla questione di porre al primo punto eh l'età pensionabile a sessant'anni. In Italia praticamente i giovani andranno in pensione a settant'anni e passa con le le leggi vigenti ma anche tutto il resto del programma eh di Mélechon tra cui c'è anche la riduzione di orario di lavoro a trentadue ore ma anche l'attenzione intersezionale. Mélechon ha costruito un programma in cui c'è eh tutta la tutto ciò che ci può essere da parte di un punto di vista di classe lavoratrice ma anche tutto ciò che ci deve essere da un punto di vista femminista, ecologista e via sociale inteso a trecentosessanta gradi. Eh da questo punto di vista anche una risposta alla colonizzazione delle classi popolari da parte dei discorsi dell'estrema destra che è avvenuto in Francia come in Italia. Eh io credo e concludo che noi dobbiamo fare tesoro di di questa esperienza non per imitarla anche se ci sono io credo che nella storia del movimento operaio c'è sempre stata la tendenza a vedere le cose che funzionavano all'estero e vedere come farle insomma se potevano funzionare anche a casa nostra. Però credo che nei prossimi mesi generalmente come abbiamo già cominciato a fare con Manifesta, con Luigi De Magistris, con PAP, con una serie di intellettuali che si sono messi a disposizione, con Transform come l'Appello Rosso Verde, con Angelo Dorsi, come Piero Bevinacqua, ma con tutti le compagnie e i compagni, anzi anche quelli che non si dicono tali ma che condividono con noi l'esigenza di una politica di pace e disarmo, di ecologia, di giustizia eh sociale e via discorrendo, costruire una coalizione popolare di alternativa nel nostro paese. Eh su un programma che sia effettivamente radicale che ha la necessità come è stato per Melescion di essere distinta dal PD e dal centrosinistra come dalla destra perché deve essere un programma di governo. Ecco su questo chiudo. Melescion, al contrario di quello che accade nel nostro paese in cui bruciamo tutto, tutto diventa moda da bruciare in in poco tempo e poi a sinistra abbiamo solo macerie, ha fatto la campagna elettorale con lo slogan con cui noi siamo andati a Porto Alegre e a Genova contro la globalizzazione neoliberista ventuno anni fa. Lo slogan di Melescion è stato un altro mondo è possibile. Ecco, noi dobbiamo presentare in Italia un programma e ovviamente persone credibili che abbiano una vita di battaglie, di lotte, di lavoro culturale, sociale, di solidarietà, di pensiero critico che si presenti per costruire l'avvio di una coalizione popolare per un altro eh mondo possibile e quindi anche per un'altra Italia possibile. Su questo chiudo eh perché davvero io penso che vi siano le condizioni. La situazione è gravissima ma sai proprio quando eh l'ora più buia diceva Neil Young è sempre prima dell'alba. grazie grazie anche per la luce che ci offre l'alba e abbiamo ancora qualche minuto quindi volendo possiamo sentire se ci sono piccole repliche Roberto Musacchi. Io faccio una battutina a difesa di Simona perché lo devo fare la mia direttora insomma nel senso che io l'ho letta diversamente l'editoriale l'ho letta per dire che questo benedetto campo largo del PD la vocazione maggioritaria sono venticinque anni che la cercano non la trovano mai non hanno mai vinto un'elezione l'unica volta che l'hanno vinta perché c'era una sinistra alternativa che era capace di prendere quattro milioni di voti eh indispensabili insomma e infatti corrono appresso a tutto quello che si può correre appresso e sono garantiti solo dal fatto che sono un pezzo della governance globale ma insomma da sono passati da 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 Ciampi, Monti, eh Draghi, sono arrivati al governo, hanno fatto le sardine e poi sono arrivati al governo con la Lega. Insomma eh diciamo che nella cosa di Melanchon c'è la ripresa di un tema interendiano dell'unità della della sinistra riattraversato profondamente come diceva Leonora in chiave eh dal basso verso l'alto popolare di blocco sociale c'è un pezzo dell'intervista che parla proprio dei comunisti noi abbiamo bisogno dei comunisti perché il comunismo è alternativo al capitalismo la mette proprio giù papale papale semplice semplice eh Melanchon ma ecco quindi questa sola eh battuta eh due altre brevissime cose ehm è vero che eh vanno meglio le cose laddove eh diciamo i socialisti sono in una posizione eh che li costringe a uscire fuori dalla questione eh social liberista cioè nel senso che in Francia sono sussunti da Macron e quelli che rimangono ritrovano una vocazione a sinistra ma io penso altre due situazioni eh la Grecia con tutti i problemi che ha avuto però insomma tuttora una forza che appartiene al partito della sinistra europea è la forza più grande eh della sinistra quella che può sfidare per il governo la destra e una cosa che non citate mai ma a cui io sono molto affezionato che è il Sinn Féin in in Irlanda storia complicata complessa anche lì è diciamo l'intreccio tra la dimensione storico geopolitica e quella sociale l'intersozionalità con il femminismo hanno appena eletto quindici donne su ventinove parlamentari le leader sia a nord che al eh che in Eire sono eh due donne e così credo che sia un una cosa sì cioè l'ultima carta dei socialisti europei è stato eh il macronismo ora in Germania sono a rimorchio dei dei Krunen è una una parabola tristissima quella dei Krunen l'unico elettorato insieme a quello del PD in Europa che è a favore della guerra tutti gli altri è in una situazione di grande difficoltà sociale ed economica che noi le previsioni economiche che ha licenziato la Commissione Europea sono tutte a ribasso sono drammatiche per l'Italia è una tragedia e e a differenza dell'Italia altri paesi qualcosa fanno però la Francia c'è un'autonomia sociale in Germania i sindacati chiedono il dodici per cento di aumento medio nei nei contratti che vanno a fare e quindi questione che eh purtroppo qui eh in Italia non non è stata messa all'angolo e noi dobbiamo tirarla fuori dall'angolo grazie Roberto non so se c'è Simona o Eleonora che vogliono interroguire no io semplicemente eh se non c'è Simona eh no vai vai eh semplicemente per per riprendere eh anche io insomma a ragione Roberto non dimentichiamoci l'esperienza di eh di Sinn Féin che secondo me è interessantissima e e che diciamo è un'altra questione europea aperta perché sappiamo insomma che cosa significa diciamo la vittoria dello Sinn Féin dopo Brexit è un'altra diciamo eh questione eh di cui eh di cui dovremmo eh discutere più approfonditamente eh io diciamo eh torno a dire eh torno a dire una cosa ha ragione anche qui Roberto quando è uscita la parabola tristissima eh dei verdi europei eh eh a metterla insieme a quella del Partito Democratico perché io credo che diciamo la questione della guerra eh nel duemilaventidue così come è stato diciamo eh più di un secolo fa eh eh diciamo all'inizio eh del primo conflitto mondiale eh oggi si ha una cartina di tornasole eh si ha una questione che sta diciamo chiarendo molto bene quali sono le linee di frattura e quali sono le differenze diciamo eh tra chi sta dentro eh con tutti e due i piedi nel caso del Partito Democratico i processi eh di ristrutturazione della governance e chi prova a diciamo mantenere aperta eh la strada di una alternativa rispetto diciamo a questa governance europea e mondiale e su questo voglio dire una cosa eh eh Maurizio prima citava uno degli slogan ripreso da Manon Sean lo slogan diciamo del movimento alter mondialista no? Eh lo voglio riprendere anche io eh perché ehm so che diciamo non è esattamente questo il cuore della nostra discussione di oggi pomeriggio però eh secondo me è una questione connessa eh quando a Genova parlavamo eh gridavamo parlavamo diciamo dell'altro mondo possibile e gridavamo quello slogan eh tra i G8 che contestavamo eh asserogliati diciamo nel cuore di Genova c'era un signore che si chiamava Vladimir Putin eh che oggi si eh diciamo faccia ricadere sul movimento pacifista sulle forze politiche pacifista su chi esprime un'impegnione contraria eh alla eh al diciamo l'invio di armi alla cobelligeranza europea l'accusa di filo putinismo è diciamo una questione ignobile che sta eh dentro eh un'altra nodo politico e culturale che attraversa lo spazio europeo che è quello diciamo del del revisionismo eh contro cui diciamo transform si è mobilitata e left si sono mobilitate a più riprese e ringrazio entrambe per questo. Tina. Grazie l'onora anche per il riconoscimento delle battaglie comuni. Simo. Sì no io volevo fare una battuta eh ricollegandomi a quello che diceva Maurizio concordo nella nell'avere il coraggio di proporre un programma radicale ma più che programma io parlerei di progetto radicale e diffido sinceramente chi oggi mi dice che per sconfiggere le destre si deve allargare questo campo allargato eh tra i dici in questelle la classica ricetta appunto che poi con le destre ci governano sostanzialmente e condividono molte delle delle proposte che arrivano dal governo comunque a parte come diceva Maurizio eh i diritti eh civili non si differenziano in niente quindi eh anche questa eh narrazione che si deve creare un campo allargato a sinistra a centrosinistra per sconfiggere le destre non è più credibile perché non è la prima volta che poi il centrosinistra governa con con le destre. Basta. Ti ringrazio. Non so se c'è Maurizio per l'ultima. Sì brevemente due cose. La prima ovviamente il la mia tra virgolette divergenza con Simone era solo per l'uso dell'espressione campo largo perché la usa sempre quel nostro vecchio amico non so se ve lo ricordate un grande rivoluzionario romano smeriglio per quelle assemblee in cui si mettono insieme rivoluzionari per portare l'acqua al PD eh e quindi insomma era solo una questione lessicale invece vengo la questione diceva Simona perché pare che Letta oggi durante la direzione del PD abbia fatto una promessa per cui lo vedremo domani eh apparire col naso di Pinocchio cioè ha detto guardate questa volta la prossima volta mai più con la non faremo più governi di larghe intese una evidente menzogna perché voglio ricordare lo dico soprattutto per gli spettatori di propaganda live che tempo che fa eccetera eh tanti cari amici e amiche che poi alla fine non si sa perché alle elezioni portano le acqua che le orecchie al PD poi per cominciare a maledirlo dal giorno dopo e dire non ci rappresenta nessuno patavin patapam tutta questa schizofrenia italiana no quelli che con noi manifestano contro gli accordi libia e poi votano per chi li firma gli accordi con quelli che fanno i lager libici eccetera insomma è un problema italiano che oramai ha a che fare molto anche insomma con la psicologia di massa ma eh Letta ha detto mai più col con la destra ora mi pare evidente che gli scenari che si stanno creando in Italia sono uno che se Letta mantiene la il patto che ha fatto ad Atreiu con Giorgia Meloni la destra non farà governi di larghe intese con Letta semplicemente perché la stragrande maggioranza del Parlamento con questa legge elettorale se la prende da sola e dovremo ringraziare il PD e i suoi satelliti alleati e Renzi anche 5 Stelle per non aver fatto la legge proporzionale avendo i numeri per farla tutti insieme. Due se non accadrà questo e si farà una legge proporzionale come leggiamo su tutti i giornali faranno una legge proporzionale non per ridare vita a una sana dialettica politica del nostro paese e tornare a fare una sinistra in questo paese ma per rifare una maggioranza stile governo Draghi ora rispetto a questi due scenari comunque orribili noi io credo che abbiamo il dovere di provare a costruirla questa coalizione popolare sociale e politica io so benissimo che solo Rifondazione Comunista, PAP, altri partiti della sinistra radicale, De Magistris, Manifesta non ce la facciamo. Quello che dobbiamo riuscire a fare è che è riuscito a fare Meletion e creare una partecipazione dal basso intorno a questo progetto per fare sì che le tante tanti che la pensano come noi ne diventino copartecipi, protagonisti. Se ci riusciamo potremmo diventare la sorpresa in questo paese e penso che dobbiamo davvero farlo e dalla Francia ci arriva non un modello da imitare ma un'idea il fatto che non sta scritto da nessuna parte che in una società europea avanzata non ci possa essere una sinistra sinistra davvero forte. Cioè in Francia Roberto ha citato altri esempi dobbiamo riprovare a costruirla anche in Italia. Non la probabilmente chiameremo sinistra perché questa parola è stata deturpata da trent'anni di centro-sinistra che per milioni di persone ha fatto diventare la parola sinistra corrispondente a banchieri, a riforme neoliberiste, precarietà, guerre e di tutto di più. Sta a noi, come hanno fatto in Francia, ridare anche un po' di onore a questa categoria della politica che come diceva Mélechon nella intervista bellissima c'è bisogno insomma di qualcuno che sia contro il capitalismo. Credo che ce ne sia ancora più bisogno in Italia perché ricordo che siamo il paese, l'unico paese europeo in cui negli ultimi trent'anni i salari sono diminuiti, neanche aumentati. Siamo l'Ucraina dell'Europa occidentale. Quindi insomma diamoci una mossa. Grazie all'EFT per aver rotto il panorama pessimo dell'informazione italiana. Non esiste solo da Milano. Grazie ancora a tutti, grazie per aver partecipato e come Transform in coroerobbico di segnalare che noi questi appuntamenti li riproporremo e domani saremo online con l'Osservatorio Unione Europea, con l'Unione Europea, la guerra e la riconversione digitale. Grazie ancora a tutti e a tutte e alla prossima. Ciao, grazie. Grazie, ciao. Ciao.